Giuseppe Giannetto Emanuele Buscolino Le due ragazze che ancora non ci sono, però non sono state a casa, però vanno anche loro, Carlo Madazzu e Neri Madazzu. Cacciogli Antonio, Nicolò Scaretti, Roberto Oliveri. Questi sono i ragazzi che partiranno e rappresenteranno l'Italia. Un bel applauso e un risposta lungo. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti